Bentornati. Il video di oggi nasce da una serie di eventi abbastanza interessanti. Tutto iniziato da un mio desiderio di rispondere a una domanda che qualcuno di voi mi ha fatto su Instagram. RandomPhysics, è vero che c'è stato un matematico italiano che ha scoperto la famosissima equazione E uguale m per c al quadrato prima di Einstein? Leggendo il nome di questo italiano, cioè Olinto Depretto, immediatamente mi si è acceso una luce perché non era la prima volta che sentivo nominare questa persona. Per chi non lo sapesse, prima di parlare di fisica qui su YouTube gestivo un gruppo Facebook in cui si parlava di relatività generale e di tanto in tanto comparivano dei post o dei commenti in cui mi veniva fatto notare che l'equazione E uguale m per c al quadrato in realtà non è veramente di Einstein perché era già stata scoperta prima da un importante matematico, fisico e chi più ne ha più ne metta italiano. In realtà non stiamo parlando né di un matematico né di un fisico ma di un geologo, però andiamo con ordine. Visto che negli anni mi è capitato spesso di sentire di grandi scienziati italiani che avrebbero scoperto cose importantissime che spesso ci tengono nascoste, scienziati di cui quasi nessuno parla, sinceramente ho affrontato la cosa in modo abbastanza scettico. Ho cercato qua e là su internet e ho visto che effettivamente Olinto Depretto ha davvero scritto un articolo nel 1903 in cui ha proposto l'idea che la materia contenesse una quantità di energia uguale a m per c al quadrato. Poi lui in realtà parla di m per v al quadrato, però questa v effettivamente viene trattata da lui come velocità della luce. Quindi in questo articolo del 1903, quindi di due anni prima rispetto all'articolo di Einstein, compare veramente l'idea che all'interno della materia si è immagazzinata una grande quantità di energia. Però a parte questo, cioè a parte questa analogia per quanto riguarda la formula, ho trovato soprattutto dei giudizi abbastanza negativi per quanto riguarda queste sue idee. Ho trovato soprattutto articoli o approfondimenti in generale in cui questa scoperta tra virgolette di Depretto veniva dipinta come una coincidenza fortuita derivante da idee profondamente sbagliate per quanto riguarda la natura e più in particolare per quanto riguarda il concetto di etere. Il modo in cui però questi articoli trattavano l'idea di Depretto mi sembrava un po' superficiale, nel senso che non si andava mai veramente a comprendere come mai lui avesse ipotizzato che la materia contenesse dell'energia. Cioè ci si concentrava soprattutto sul fatto che lui parlasse di etere, come in realtà facevano tantissimi scienziati all'epoca prima che Einstein ci mostrasse che potevamo anche rinunciare a questo concetto per parlare dei fenomeni fisici, ma non trovavo da nessuna parte qualcuno che descrivesse correttamente, in modo sensato almeno a mio giudizio, come mai Depretto fosse arrivato a questa conclusione secondo cui la materia contiene dell'energia che è dovuta solo alla massa della materia stessa e non ad esempio alla velocità posseduta dal corpo. Cioè come mai Depretto parlasse della cosiddetta energia a riposo che effettivamente è quel concetto che poi è saltato fuori dalla relatività ristretta di Einstein. Non volendo rispondere superficialmente alla domanda che mi era stata posta su Instagram, ho deciso di andare a leggermi l'articolo originale e non è stato facile trovarlo. Devo a questo proposito ringraziare il sito cartesioepisteme.net per la trascrizione che mi ha permesso di accedere a una lettura completa e chiara dell'articolo di Depretto del 1903. Si tratta di un articolo che originariamente è comparso negli atti del reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, per quanto riguarda l'anno accademico 1903-1904. Cos'è successo quando ho letto l'articolo? Beh, al di là del fatto che comunque ci sono effettivamente delle idee un po' bizzarre al suo interno legate a un'interpretazione del concetto di attrazione gravitazionale che anch'esso viene spiegato tramite il concetto di ettere, però andando a vedere poi la parte in cui si parla di m per c al quadrato, cioè dell'equivalenza massa energia, mi sono reso conto che le idee di Depretto erano molto più profonde rispetto a quello che sembrava, leggendo qua e là articoli che parlavano di questo suo scritto. E alcune delle idee secondo me sono proprio quelle che poi caratterizzeranno non solo la relatività ristretta, ma anche alcune basi concettuali della meccanica quantistica. Ma ne parliamo subito dopo la sigla. Bentornati su Random Physics. Come sempre, se volete sostenere questo mio progetto di comunicazione della fisica, vi chiedo di mettere un mi piace a questo video e di iscrivervi al canale. A maggior ragione perché questo progetto non si limita solo ai video qui su YouTube, ma sono in ballo tante altre idee. Per fare un esempio, sul sito randomphysics.com trovate una trascrizione dell'articolo di Depretto che però non è una ricopiatura fedele, bensì una sorta di parafrasi, cioè vi ho riscritto tutto l'articolo in un linguaggio un po' più moderno, perché l'italiano del 1903 forse non è così comprensibile alle nostre orecchie di persone del 2024, soprattutto considerato che stiamo parlando di argomenti di fisica. Quindi, link in descrizione, trovate tutto l'articolo di Depretto riscritto completamente con termini moderni. Quindi link in descrizione per l'articolo, ma prima rimanete qui con me e andiamo a vedere quali fossero queste idee di Depretto. Naturalmente nell'articolo si parla costantemente di etere, cosa che si faceva anche in tanti altri articoli scritti da altri fisici e altri scienziati dell'epoca, perché il concetto di etere serviva comunque anche solo a livello linguistico come termine che permettesse di parlare di propagazione della luce, ad esempio. Cioè, quando si diceva che la luce si propaga nello spazio si parlava di vibrazioni di etere, più o meno come oggi parliamo invece di oscillazioni di un campo elettromagnetico. Al giorno d'oggi tendiamo un po' a sottovalutare l'idea di etere dell'epoca ritenendola completamente sbagliata. Cioè, quello che viene detto oggi è che all'epoca si pensava che l'etere fosse un vero mezzo materiale dotato di proprietà meccaniche, poi si è capito che non serviva questo mezzo e quindi è stato completamente buttato via questo concetto. Quando in realtà io sono un po' più convinto del fatto che il concetto si è evoluto e quello che noi oggi chiamiamo campo elettromagnetico, anche a livello di teoria quantistica dei campi, sia un po' l'evoluzione di quello che allora era l'etere. Ma al di là di queste mie opinioni, che possiamo discutere se volete, De Pretto parla sì di etere e di vibrazione di etere, ma quando poi si concentra sui fenomeni che descrive, o che vuole in qualche modo spiegare, lui parla della luce come di fatto di un bombardamento continuo di piccole particelle. Cioè, anche se usa il termine vibrazione di etere per parlare della luce, poi quando la tratta fisicamente e tratta il suo effetto, quindi l'effetto della luce sulla materia, la tratta come fatta di tanti piccoli corpuscoli. Quindi in realtà lui è come se avesse anticipato il concetto di fotone. In tutto l'articolo troviamo quindi dei ragionamenti in cui ci si immagina che la materia sia costituita da piccole particelle elementari che vengono bombardate da particelle di etere, che poi di fatto sono particelle di luce. Quindi dalla luce di quello che sappiamo oggi io reinterpreto queste sue idee come il fatto che la materia venga bombardata da fotoni. E attenzione, non sto giustificando a posteriori quello che lui ha detto. È chiaro che parla di etere e quindi le sue idee sono ormai superate. Però l'intuizione che ha avuto secondo me è quella che poi porterà altri scienziati, tra cui appunto Einstein, a descrivere in modo anche quantitativamente corretto le cose. Ad esempio un errore, se vogliamo, che fa depretto è associare a queste particelle di luce una massa. Lui dice che un corpo, una particella ad esempio, viene bombardata da vibrazioni di etere che hanno una massa che lui chiama m minuscolo. Ed è proprio a partire dalla stima dell'energia di queste particelle che lui arriva a m per c al quadrato. Immagina che se ci sono queste particelle di luce che viaggiano a 300.000 km al secondo circa, si conosceva infatti già il valore della velocità della luce, allora anche se queste particelle di luce o di etere, se vogliamo, dovessero avere una massa molto molto piccola, chiamiamola m minuscola, comunque la loro energia cinetica che lui chiama forza viva sarebbe dell'ordine di m per v al quadrato, cioè massa per velocità al quadrato. Però la velocità v è proprio la velocità della luce, visto che parliamo di particelle di luce, quindi una di queste particelle di luce dovrebbe avere un'energia enorme, cioè la sua massa, per la velocità della luce al quadrato. E anche qui è interessante il fatto che lui utilizzi m per v al quadrato, perché noi al giorno d'oggi sappiamo che l'energia cinetica in realtà è un mezzo m per v al quadrato. Quindi se vogliamo, depretto non ha nemmeno azzeccato la formula m per c al quadrato, perché in base ai suoi ragionamenti quell'energia doveva essere appunto un mezzo m per v al quadrato o un mezzo m per c al quadrato. Però al di là di questo dettaglio, cioè del fatto che quello che prima chiamavamo forza viva m per v al quadrato oggi è diventata energia cinetica, un mezzo m per v al quadrato, come arriva depretto poi a dire che un corpo vero e proprio, quindi non la luce, ma un vero e proprio corpo materiale, che lui chiama corpo inerte, possiede un'energia equiparabile alla sua massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato? Beh, ci arriva tramite dei ragionamenti che secondo me sono molto moderni e anticipano appunto i ragionamenti alla base non solo della relatività ristretta ma addirittura della meccanica quantistica. Cioè depretto ragiona così. Un corpo è fatto di molecole e poi anche di atomi, ma tutti questi elementi rimangono uniti a formare il corpo, in una sorta di equilibrio stabile. Noi però sappiamo anche che in realtà, andando a vedere microscopicamente cosa accade, si tratta di un equilibrio apparente, perché tutta la materia microscopicamente sta vibrando. Queste idee di vibrazione, che forse noi oggi associeremmo alla meccanica quantistica, derivano in realtà da queste idee un po' più antiquate di vibrazioni di etere. Cioè in qualche modo all'epoca si sapeva che tutto vibra, perché la luce è un'onda che ha bisogno dell'etere per propagarsi, l'etere vibra, e questa vibrazione deve venire trasmessa in qualche modo anche alla materia. Quindi anche la materia vibra. Questa era un po' l'idea di base. E secondo me è un'idea abbastanza profonda, perché non è scontato arrivare a una conclusione del genere. Oggi potremmo dire le cose un po' diversamente. Potremmo dire ad esempio che le onde elettromagnetiche colpiscono la materia e la trasmissione di energia dall'onda elettromagnetica alla materia avviene tramite pacchetti finiti che noi chiamiamo fotoni. Ma la cosa interessante è che poi, una volta che il fotone trasmette energia ad esempio a un atomo, noi trattiamo quell'atomo comunque come qualcosa che oscilla, perché gli atomi vengono trattati a livello fondamentale, cioè a livello di meccanica quantistica, come degli oscillatori armonici. Quindi la luce viene vista come un oscillatore armonico, la materia viene vista come un oscillatore armonico, e il passaggio di energia da luce a materia avviene tramite pacchetti finiti che noi oggi chiamiamo fotoni. E, in modo del tutto simile, Depretto si era immaginato la natura a funzionare nel seguente modo. L'etere vibra, perché la luce è un'onda che si trasmette attraverso questo mezzo vibrante che è l'etere. L'etere trasmette la sua energia alla materia tramite un bombardamento di queste particelline di luce, che lui chiama anche vibrazioni di etere. Però, visto che dà anche una massa a queste particelline se le immagina veramente come dei corpuscoli. Una volta che questa energia viene trasmessa alla materia, questa viene immagazzinata sotto forma di vibrazioni di materia. Quindi vedete che c'è una certa analogia fra i discorsi che facevo prima relativi alla meccanica quantistica, per come la si descrive oggi. E qui arriva il passo successivo, cioè questa energia vibrazionale che viene trasmessa dalla luce alla materia. Si può stimare in qualche modo? In realtà sì, perché la particellina di luce, secondo Depretto, aveva un'energia uguale a m per v al quadrato, dove v è la velocità della luce e m è la massa della particella di luce. E ipotizzando che tutte le particelle del mezzo vengano messe in vibrazione dalla luce, possiamo anche stimare che tutta la materia del nostro corpo possiede un'energia data proprio dalla massa del corpo per velocità della luce alla seconda. Quindi secondo Depretto, questo corpo solido, esteso, che è fatto di tante piccole particelle che stanno tutte insieme grazie a queste vibrazioni che sono generate dall'interazione con la luce, possiede un'energia che di fatto è proprio quell'energia che gli viene trasmessa dalla luce, cioè è un'energia di equilibrio fra luce, o meglio fra etere e materia. E questa energia si può stimare esattamente come l'energia del pezzettino di luce, cioè del pezzettino di etere, cioè m per v alla seconda, dove stavolta m è la massa dell'intero corpo, o meglio la somma di tutte le masse delle particelline che stanno interagendo con la luce, che costituiscono il corpo. E v è proprio la velocità della luce. Ed è un discorso molto simile a quello che potremmo fare anche oggi per spiegare come mai un corpo possieda un'energia dovuta alla sua massa. Chiaramente oggi non diremo mai che un fotone possiede una massa, però noi sappiamo che un fotone possiede un'energia, e sappiamo anche che un fotone può trasmettere la propria energia a un corpo e in questo modo aumentare la sua massa, perché sappiamo, l'abbiamo già visto in tanti video, vi lascio in descrizione anche qualche calcolo, che in generale l'energia si converte spesso in massa vera e propria. Quindi al di là del fatto che noi oggi sappiamo che un fotone di per sé non ha massa, mentre Depretto invece ha stimato che avessero comunque una massa anche se infinitesima, più o meno le idee di base che poi si svilupperanno sia in relatività ristretta sia in meccanica quantistica c'erano. E sinceramente direi che la stima di m per u al quadrato è l'ultima cosa da guardare. È molto più interessante questa idea di vibrazione che viene trasmessa dall'etere alla materia e che è in grado di immagazzinare energia all'interno dei corpi che noi osserviamo. Detto ciò, quindi, sono d'accordo con l'idea che Depretto non ha scoperto m per c al quadrato prima di Einstein, perché Einstein poi ha fatto tutti i calcoli per bene e ha proprio dimostrato matematicamente che se un corpo perde una certa quantità di energia perde anche una equivalente quantità di massa e energia e massa sono proprio legate da questa equazione. Depretto però ha buttato lì tante idee molto interessanti e questo dimostra che a quei tempi le persone ragionavano a fondo sulle cose ed è una cosa da non sottovalutare. Cioè ogni volta che leggo un articolo scientifico di inizio XX secolo ma anche del XIX secolo mi rendo conto che le persone avevano tanta voglia di approfondire le proprie idee, avevano voglia di spendere tempo nelle loro ricerche, non avevano fretta di pubblicare, cosa che invece caratterizza un po' il mondo scientifico attuale. Leggendo l'articolo di Depretto, che comunque è un articolo di numerose pagine, ci si accorge che dietro c'è stato un grande ragionamento, poi purtroppo lui probabilmente non aveva nemmeno i mezzi tecnici per indagare a fondo le sue idee. L'unica formula presente in quell'articolo è proprio m per v al quadrato. Ma nonostante questo c'era una chiara volontà di comprendere a fondo le cose, si tendeva poco a rimanere sulla superficie. Al limite, come in questo caso, si vede la mancanza poi di mezzi veri e propri, sia matematici sia fisici, per indagare a fondo le proprie idee. Detto questo vi ringrazio per aver guardato, se avete domande scrivete un commento, seguitemi su Instagram, perché anche lì pubblico tante cose, mettete mi piace, iscrivetevi, solite cose. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao!